Simone Zanotti, terza stagione in Bianco Rosso, ormai un veterano per questo canone di basket a cui stiamo assistendo nei tempi moderni. Cosa ti aspetti intanto dall'esordio domenica a Sass? Sicuramente tanta intensità, tanta energia, è quella che dobbiamo mettere sempre in tutte le partite, essendo una squadra abbastanza giovane, non così tanto esperta come lo sono magari altre squadre, quindi l'aggressività e l'intensità è un fattore che non dovrebbe mai mancare. L'amalgama c'è, abbiamo giocato tante partite, a mio avviso forse ci siamo allenati meno, abbiamo giocato di più, questo ha fatto sì che il tempo di fluidità negli schemi, nei giochi sia ancora un po' più lungo, quindi dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, però le buone impressioni da parte mia ci sono sicuramente, perché ripeto è un gruppo giovane ma è anche un gruppo che ha tanta voglia di fare, tanta voglia di lavorare, quindi ci sono buone ambizioni. L'ultima domanda, un po' scomoda, differenze e similitudini tra Aza e Reppece? Ma ti dico la verità, sotto un punto di vista tecnico ci sono parecchie somiglianze, anche sotto un punto di vista a livello di esercizi proprio d'allenamento, ci sono molte cose, molte similitudini. Sì, questa è una domanda molto difficile. No, beh, diciamo che si somigliano in certe cose, sono molto diversi per altre. Aza lo vedo un po' più umano sotto il punto di vista dello stare vicino al giocatore, mentre invece Reppece tendeva a mantenere un po' più il distacco con il giocatore. Questa può essere una cosa positiva per un gruppo come lo siamo noi, perché, ripeto, siamo giovani e abbiamo forse anche bisogno di quel lato umano, di quel fattore umano in più, quindi può essere sicuramente una cosa positiva. Davide Moretti, intanto ben trovato. Domenica comincia il campionato. Ci saranno nuove sensazioni, perché troverete un palazzetto pieno al 35%. Cosa ti aspetti di trovare in Sardegna? Come hai detto tu, sarà bello rivedere i tifosi e sarà sicuramente Sassari conosciuta per avere un gran tifo, quindi penso che dovremo pensare soltanto a noi stessi, anche se comunque il 35% non è un palazzetto pieno, però comunque può fare la differenza, quindi dobbiamo rimanere concentrati e pensare a noi stessi. Senti, che sensazione hai avuto da questi primi giorni in maglia bianco-rossa? Sono sensazioni buone, siamo un ottimo gruppo di ragazzi che ci tiene e che si sta conoscendo piano piano, quindi dobbiamo imparare a conoscerci ancora, lavorare tosto e stare in palestra tutto il tempo possibile, perché ovviamente la stagione sta per cominciare, comunque il pre-stagione è praticamente finito, quindi dovremo essere bravi a cercare di concretizzare tutte quelle settimane di lavoro prima delle partite per migliorare settimana dopo settimana. C'è tanto ancora da lavorare, sicuramente a Sassari dobbiamo fare una partita molto intensa, di concentrazione, dobbiamo un po' rifasci dopo queste prestazioni non buonissime che abbiamo fatto contro Venezia, contro Brindisi, quindi può mettere in campo tutta la voglia che abbiamo di far bene e almeno di dimostrare che la squadra c'è. Io provo con i fatti a spionare i ragazzi, è una partita difficile, però questa settimana abbiamo lavorato veramente bene e quindi faremo una bella partita. I nuovi come li stai vedendo? Si stanno integrando bene nel roster, nell'architettura della squadra? Ancora siamo ai primi allenamenti, alle prime partite, non è facile avere subito una buona alchimia. I ragazzi ci stanno provando, molti non hanno mai giocato in Europa, anche lo stesso ha vinto la maggior parte d'Italia, quindi anche lui deve abituarsi alle regole, anche come fiscano gli arbitri, alla fisicità del campionato, però sicuramente la miglia ci ha fatto bene per capire a che punto siamo e niente. Con la Villa Matarazzo a Pesaro la conoscono tutti, è stata cornice, scenario di tanti eventi e si sposa quest'anno con la Vittoria Libertas, una scelta pensata, ponderata, tanto tempo oppure è un progetto nuovo? È un progetto nuovo, penso che sia nato un po' distinto, di volere questa squadra veramente forte e vincente, come abbiamo seguito tutti lo scorso inverno, quando a Milano veramente ci ha fatto sognare quasi come ai tempi d'oro, dopo tanto tempo in un periodo un po' di sofferenza e quindi ci ha fatto riappassionare e la vogliamo vedere così. Noi ci siamo, ci siamo stati, ci siamo e ci saremo, un po' come diceva sempre mio padre, come il titolo del suo secondo libro. C'ero ci sono conto di restarci perché ci ha lasciato una grandissima eredità di aziende, di persone, di progetti, soprattutto i progetti che noi porteremo avanti e questa sera stando qui, lui è qui con noi chiaramente e ancora più presente proprio perché siamo a casa sua, a casa nostra. Innanzitutto complimenti alla VL perché quest'anno hanno veramente fatto tanto per coinvolgere gli sponsor, per coinvolgere il pubblico, ci viene fuori da un momento non facile dove tutti eravamo, sappiamo, chiusi eccetera, però abbiamo tutti voglia di grande basket e confidiamo nello staff, nella dirigenza, insomma da Asa, Petro e vicino avanti credo che potranno farci sognare.